Buongiorno, sono Federica Mocci, sono il coordinatore del corso di laurea triennale in scienze del turismo o la coordinatrice se vogliamo essere più precisi. Il corso di laurea triennale in scienze del turismo della Facoltà di Lettere dell'Università di Roma Tor Vergata è un corso abbastanza attestato, nel senso che è forse il primo che si è aperto in questo settore in Italia e quindi ha avuto modo anche di evolversi, di articolarsi a chi è rivolto naturalmente, a tutti quelli che pensano di potersi impegnare, di volersi impegnare in un futuro lavorativo nel settore turistico da vari punti di vista, da moltissimi punti di vista. Infatti il corso è diviso poi in tre curricula, ora vedremo quali sono gli oggetti dei tre curricula, quindi ci si può volendo anche al momento della scelta del curriculum che si fa quando si fa il piano di studi, quindi prima di iniziare i primi esami, si può scegliere tra tre tipi di approfondimento, uno sul turismo culturale, uno sulla gestione del turismo e dell'ospitalità, più organizzativo e economico, e un terzo che è il più nuovo dei tre curricula che abbiamo impostato, che è dedicato a sport e turismo, ma questo lo vedremo ancora meglio, quindi in realtà il range degli interessi che si possono approfondire in questo tipo di corso di laurea è molto vario ed è naturalmente un tipo di corso di laurea molto interdisciplinare, quindi che materie si vanno a studiare se uno si iscrive a scienze del turismo, ma sicuramente geografia, economia, diritto stanno tra gli esami obbligatori, ma poi anche letteratura di viaggio per esempio, letteratura italiana, noi siamo sempre a lettere, quindi chiaramente l'approfondimento specialmente per il curriculum turismo culturale, ma anche per gli altri, diversa anche su questi aspetti, personalmente io sono un professore di diritto, faccio diritto dell'Unione Europea per il turismo e protezione del patrimonio culturale a livello internazionale, quindi per esempio la valorizzazione dei beni culturali, che senso ha in un contesto internazionale, quindi veramente il range è molto vario, poi dopo voi sentirete la presentazione del corso di laurea sempre triennale, professionalizzante in turismo enogastronomico, sempre turismo è naturalmente, però è un altro corso di laurea ed ha delle caratteristiche differenti, ma anche in scienze del turismo non è che non si parli di turismo enogastronomico, abbiamo anche noi alcuni esami che avvicinano anche a questo aspetto. Quindi il range degli interessi che si può approfondire è molto vario e la scelta anche di come indirizzare questo approfondimento è possibile rivolgerla in tre tipi di curricula. Adesso comincio veramente a condividere, usare la possibilità che abbiamo aperto, quindi penso stiate vedendo il mio schermo in questo momento, me lo conferma, sì? Sì, lo vediamo, lo vediamo. Allora, questo è il cosiddetto mini sito, il sito del corso di laurea in scienze del turismo, quindi se volete informarvi naturalmente è un modo più facile piuttosto che andare a cercare direttamente magari sul public gomp, che è il modo ufficiale di andare a vedere come sono strutturati i corsi di laurea di tutte le università, anche di Tordercad. Qui abbiamo un po' un compegno di informazioni, vedete che potete intanto individuare i tre curricula, turismo culturale, gestione del turismo e dell'ospitalità e sport e turismo. Se volete scoprire i percorsi formativi in modo più dettagliato, naturalmente potete poi dopo navigare attraverso le scelte e trovare, ecco qua non ce lo dà perché c'è un link che non funziona purtroppo, ma trovate il link ai siti dell'università che vi fanno strutturare il piano di studio, offerta dei piani di studio e i manifesti degli studi preparati dalla segreteria per tutti i corsi di laurea. Ecco, sul manifesto degli studi fate molto presto a vedere tutte le materie che sono offerte nell'erogazione di questo corso. Andate sul vostro corso Scienze del Turismo dall'Itamista e vedete che anche qui si aprono i tre curricula. Apriamo per esempio il primo e lì trovate appunto gli esami obbligatori e facoltativi che vi sono poi erogati nel corso di laurea. Tra l'altro vedete, questa è la caratteristica, un'altra caratteristica oltre alla scelta dei tre curricula. Naturalmente il corso non è a frequenza obbligatoria, come la maggior parte poi dei corsi di lettere. Questo discorso non vale per turismo enogastronomico, quindi lo sentirete dopo. Ma per quanto riguarda Scienze del Turismo la frequenza non è obbligatoria, anche se naturalmente se state studiando e non lavorando nel frattempo è caldamente consigliata, perché approfittare delle lezioni è sempre la via principale, la via migliore per prepararsi. Scienze del Turismo è un corso blended e quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che non adesso, perché c'è la pandemia, ma da sempre, questo corso è studiato perché sia più facilmente fruibile anche per esempio da studenti lavoratori e quindi alcuni degli insegnamenti sono erogati su una piattaforma, diciamo così, tra virgolette a distanza, ossia con indicazioni di programma, con una serie di incontri sincroni, con una serie di test intermedi. di ciascuno degli insegnamenti che qua vedete indicati in grigetto, diciamo così, sono svolti, come è scritto, infatti a distanza. La piattaforma, tra l'altro, su cui si appoggiano questi insegnamenti, i cui esami però sono rigorosamente in presenza, quindi ci consente anche di dialogare continuamente e di avere una comunicazione veramente immediata e molto utile con tutti gli studenti del corso, anche per quanto riguarda le comunicazioni dei corsi in presenza, non solo di quelli a distanza. Peraltro, ecco come vedete, qui abbiamo gli insegnamenti elencati obbligatori e poi i gruppi opzionali, quindi se volete sapere cosa dovete per forza studiare e quali esami invece potete scegliere, ecco questi sono obbligatori, questi sono i gruppi opzionali che iniziano qui, di ciascun gruppo va fatto quello che c'è scritto, quanti CFU, 12 CFU, allora se vanno fatti 12 CFU in questo gruppo si devono scegliere due esami da sei, sono tutti esami da sei, e così via per gli altri gruppi, quindi quanto a tipi di materie e esami potete tranquillamente scorrere i manifesti degli studi di ciascun curriculum e scoprire cosa c'è da studiare. Ora, chiudo la condivisione così magari ci guardiamo in faccia, di nuovo, oltre a tutte queste materie da studiare naturalmente ci sono, studiare come? Studiare come si fa all'università naturalmente, un tipo di studio un po' meno passivo forse, quello, io spero che non siate abituati a studiare passivamente nemmeno al liceo, perché lo studio non può mai essere passivo, lo studio è sempre un'interazione, insomma, tra chi insegna e chi impara, e anche chi insegna impara dagli studenti e così via. Quindi è sempre un lavoro sinergico, all'università ha maggior ragione, perché poi è richiesto anche, diciamo così, un approccio più costruttivo anche da parte vostra, sempre più costruttivo nel tempo, visto che crescete. E però, oltre allo studio, ci sono anche le esperienze di laboratorio, che sono diverse per i tre curricula, per esempio, per quello relativo a sport e turismo, c'è un laboratorio fatto con il CUS, in collaborazione con il CUS di Tor Vergata, che lascia anche tante opportunità, tra tante opportunità, di vedere l'applicazione pratica, di mettersi in gioco, insomma, sul settore sport e turismo, ma lo stesso vale per gli altri due curricula, il laboratorio relativo proprio alle scritture di viaggio, per esempio, per il turismo culturale, oppure un laboratorio molto diretto, di dialogo diretto con le aziende che lavorano nel settore del turismo per gestione del turismo e dell'ospitalità. E poi il tirocinio, tirocinio obbligatorio per tutti, di 150 ore, da svolgersi verso la fine del proprio percorso formativo. Erasmus consigliato a tutti, naturalmente, che cos'è Erasmus? andare sei mesi a sostenere esami in un'altra università europea, tendenzialmente, dove si studiano le materie che vi interessano, e abbiamo anche alcuni studenti che hanno usufruito molto opportunamente, io devo dire la verità perché io l'ho fatto da docente, quindi so che è stata una bella esperienza, anche della possibilità di andare a Venice International University, che si trova a Venezia, ma è veramente internazionale, è una collaborazione tra alcune università sparse per il mondo, tra cui Tor Vergata, per cui i corsi erogati qui, che possono essere fruiti come quelli di Erasmus, insomma, per completare il proprio percorso di studi, sono erogati veramente da professori che vengono da università americane, americane, russe, giapponesi, da molte parti del mondo, ed è un'esperienza veramente di internazionalizzazione molto interessante, vi posso assicurare. Insomma, il settore turistico non è morto, anzi, si deve rilanciare, bisogna studiare per essere sempre più preparati e fare un'offerta, sempre più qualificata, sempre più in grado di andare verso lo sviluppo economicamente, internazionalmente, culturalmente, socialmente, ambientalmente sostenibile e sono sicura che molti di voi, ecco, riflettono su queste cose, perché lo sappiamo che noi diciamo sempre che l'Italia potrebbe vivere di turismo, bisogna anche vedere di che turismo, e quindi formarsi è importante. Finisce con, e qui chiudo, lo so che il tempo sta finendo, quindi chiudo, ultima notazione. Allora, finisce con i tre anni della laurea, il percorso necessariamente, questo dipende da voi, chiaramente tre anni possono essere senz'altro sufficienti, ecco, per affacciarsi preparati sul mondo del lavoro, ma se volete continuare a studiare, da noi a Tor Vergata ci sono diverse possibilità, abbiamo una magistrale in lingua italiana, in progettazione e gestione dei sistemi turistici, e una in lingua inglese, che peraltro mi trovo a coordinare sempre io, che si intitola Tourism Strategy, Cultural Heritage and Made in Italy. Vi posso assicurare, sebbene sia solo il secondo anno, quindi i primi laureati di questo percorso in inglese li avremo a breve, insomma, già molti studenti, non solo italiani, ma anche stranieri di varie parti del mondo, si sono iscritti e rendono questa laurea non solo attraverso l'offerta formativa, naturalmente noi l'abbiamo progettata perché sia interessante, ma lo è ancora di più perché grazie alle classi veramente interculturali e veramente di provenienza internazionale, ogni problematica naturalmente viene affrontata sotto vari punti di vista, anche grazie all'apporto degli studenti, come vi dicevo, gli studenti sono fondamentali, non solo i professori. Allora, io forse ho preso anche troppo tempo, vi ringrazio, e qualsiasi domanda naturalmente cercherò di rispondere e l'accesso al mini sito potrebbe risolvere diversi dubbi tramite l'esplorazione sul corso di laurea. Grazie professorezza.